Ciao a tutti amici, ma l'Unione Europea ormai ha virato a sinistra, sull'estrema sinistra direi, beh a giudicare dal dibattito surreale avvenuto oggi al Parlamento Europeo direi proprio di sì. Iniziamo col fatto che ha parlato il Presidente Orban, che non è solo Presidente dell'Ungheria, ma è anche e soprattutto Presidente del Consiglio Europeo dell'Unione Europea. Dopo il discorso di Orban è partito un bella ciao da parte dell'emiciclo del Parlamento Europeo che la lascia dire lunga su come purtroppo troppi parlamentari europei stanno interpretando il loro ruolo. Non solo, come mai accaduto prima la von der Leyen, cioè la Presidentessa della Commissione Europea, ha attaccato frontalmente non solo il Capo di Stato dell'Ungheria, Orban, ma anche il Presidente del Consiglio Europeo di turno. Cosa mai avvenuta? Quindi la domanda la ripeto a voi. Secondo voi questa Europa sta virando a sinistra e soprattutto si sta scollando dalla realtà? Come può un Presidente di Commissione attaccare frontalmente un Capo di Stato eletto che rappresenta uno dei Paesi membri dell'Unione Europea? Come può il Parlamento Europeo intonare bella ciao in maniera ovviamente di sfida nei confronti di Orban? Come può un europarlamentare come la Salis, che era agli arresti in Ungheria per aver aggredito con delle spranghe dei cittadini ungheresi? Come può definire un Capo di Stato eletto, nonché Presidente di turno dell'Unione Europea, Presidente di un regime? Queste cose assolutamente sono sintomi del fatto che forse l'Unione Europea sta implodendo su se stessa. O si corre i ripari oppure l'Unione Europea è finita. E purtroppo mi sembra che le condizioni di recupero di una democrazia vera in Europa non ci siano. Questa è la mia opinione, forse un po' cruda, forse un po' dura, forse un po' forte, ma è quello che penso davvero. Voi dite la vostra nei commenti. Cosa pensate della pantomima andata in scena oggi in Parlamento Europeo? Scrivetelo nei commenti e come al solito noi ci vediamo domani.